Clic! Ben ritrovati i miei cari avventori di Luizona Barchalcio. È appena finita la partita oscena tra Bologna e Juventus, finita 1-4 in favore della Juventus. Una partita oscena mai preparata da Sinisem Jailovic. Nessuno mi venga adesso qui a dire che Sinisem Jailovic questa settimana, come anche molte settimane dietro, si è messo a studiare come poter arginare e fare una partita quantomeno dignitosa. E non mi venga e non ci venga adesso a raccontare la solita favola, erano motivati, loro si giocavano tantissimo, noi non ci giocavamo niente, noi le nostre partite, quando dovevamo fare le abbiamo fatte. perché poi vi voglio dire, Napoli-Verona 1-1, il Verona non si giocava niente, ma il Verona ha fatto la partita dignitosa. È andato a Napoli, mentre noi tra l'altro giocavamo a Bologna, ed è andato a fermare il Napoli. Ok? Il Verona, il Verona, il Verona. Lo Spezia ha parigiato 2-2 con la Roma fino agli ultimi 5 minuti, addirittura vincevano 2-1. E ci avevano addirittura raggiunto in classifica 41 punti. Lo Spezia, che è una società che ha un fatturato di 22 milioni di euro totali di stipendi ai giocatori, noi 43 milioni, ne abbiamo più alto di quello dell'Atalanta. E per un ampio momento della serata siamo stati appaiati entrambi a 41 punti, Bologna e Spezia. Ok? Bologna che finisce la stagione in dodicesima piazza a 41 punti, ok? Dietro a Genova, Verona, Sampdoria e Sassuolo, più le note là davanti. Non si può venire adesso a raccontare che sia stata una stagione buona, perché voglio anche dire che il Bologna è dodicesimo, ma è a quattro distanze dalla diciassettesima posizione. E se il campionato, lasciatemi dire, fosse continuato anche solamente altre due giornate, noi quanti punti avremmo preso? Voglio ricordare di quei 15 punti famigiarati che Mijainovic chiedeva alla squadra, ne sono arrivati due! Ne sono arrivati due! Una vergogna! Questa sera si è visto un Bologna messo in campo male, ok? Come da settimana ormai ci capita di vedere e soprattutto quello che non lascia ben sperare è il prosiego di questa storia d'amore tra Bologna e Mijainovic stesso, perché è lampante che ci siano più di un problema. Ne voglio sottolineare qualcuno. La gestione, ad esempio, delle scelte. Anto in panchina, quando poi è entrato nel secondo tempo, smettendo tutti perché tutti pensavamo ci potesse essere quella famosa clausola che a 5 presenze scattava la soglia del riscatto obbligatorio, invece si è entrato a 30 dalla fine e che smentisce tutto. Perché allora a questo punto o era vero e adesso il Bologna si vede costretto a riscattarlo per farlo giocare 25 minuti contro la Juve, una partita ampiamente persa, manco me l'avessi messo a titolare. Oppure mi devi giustificare e spiegare perché Antov non è mai stato preso in considerazione nei match precedenti. Sinis e Mijainovic ci deve spiegare perché ha fatto giocare Lorenzo De Silvestri sulla corsia di sinistra che è stato un pianto. In difesa eravamo dei colabro di Quadrado e Kuluseschi, ci sono entrati sulla destra, sempre sulla destra, guarda caso, sempre e solo sulla destra, come fosse la lama nel burro. De Silvestri inadeguato e ancora più di De Silvestri inadeguato. Sinis e Mijainovic è a non averlo capito, a non averlo capito. Avevo detto ieri l'altro a Sinis e Mijainovic, nella probabile formazione, a me raccomando non mettermi De Silvestri in campo, metti semmai Tomiasu sulla sinistra e prova sto Faragò che tanto peggio di De Silvestri sicuramente non è. Perché ce lo ricordiamo tutti De Silvestri contro la Roma e di fatti contro un Quadrado è successo quello che successe contro un Spinazzola e un Mijainovic contro la Roma. Il nulla cosmico. Chi è che l'ha voluto De Silvestri a Bologna? Mijainovic. Chi è che l'ha messo in campo questa sera De Silvestri in campo in questa partita? Mijainovic. Vogliamo parlare delle ali? Vogliamo parlare di Scovolsen? Vogliamo parlare di Musabarro? Vogliamo parlare di Ursulini? Vogliamo parlare di Sansone? Vogliamo parlare del gioco delle ali che dovrebbe essere il plus di questo Bologna e che sta diventando un minus da ormai non so quanto tempo a questa parte. Vogliamo parlare delle involuzioni di certi giocatori che non è da due partite. È da una stagione e mezzo che non stanno facendo vedere miglioramenti. È da una stagione e mezzo. Guarda caso Mijainovic in panchina. È una coincidenza che su 4 su 4 facciano pena? O potrebbe esserci a questo punto un dubbio tattico e tecnico da parte di Siris Mijainovic che li manda allo sbaraglio. E gli stessi giocatori comunque palesano dei limiti evidenti. Voglio sapere quanti di voi ancora non si siano accorti della pochezza di Musabarro. Giocatore che l'unica cosa che sa fare quando ha la palla è rientrare col piede buono e cercare la porta o discaricare il pallone in una qualche maniera. È un giocatore, sbagliando tra l'altro, quanti palloni sbaglia? Taticamente inutile, non sa dove andare a posizionare. Vaga in mezzo al campo. È una pecora errante. È un muflone in mezzo al campo. Non vogliamo capire che Musabarro non vale 20 milioni? Cioè la cifra che siamo andati a pagarlo all'Atalanta? Non vogliamo capire che se Gasperini se ne è disfatto c'è una motivazione? Non vogliamo capire? Parlando di Scovolsen, è ormai due stagioni e si è conclusa la seconda. Lo vogliamo aspettare per la terza? Lo vogliamo aspettare per la terza? Scovolsen è questo. È un giocatore sbagliato. Un giocatore, un acquisto sbagliato. Non peraltro per i dettami di Mijailovic. A Mijailovic questi giocatori non servono. O Mijailovic è inadeguato. Mijailovic questa sera è inadeguato. Ma, attenzione, perché tutte le volte che me l'hanno inquadrato si grattava la testa, si toglieva il cappello, faceva un sorrisetto scottando la testa. Allora vi viene da dire, attenzione, sì stiamo perdendo 3-4-0. Abbiamo rischiato più volte di collassare col quinto gol. Però, tutto sommato, c'è un Mijailovic molto ambizioso in panchina, che ci fa ben sperare. N'è vero saputo che eri in tribuna a goderti tale spettacolo osceno? N'è vero ti è piaciuto saputo? Vuoi continuare così? Tra l'altro un allenatore che, a differenza di Claudio Ranieri, dove, in quel di Genova, ha detto che lui si ferma qua perché non ci sono i presupposti per continuare ad allenare la Sampdoria, e non mi risulta che Ranieri stesso abbia mai detto di se stesso che lui è ambizioso, perché lui non ha bisogno di dirlo a parole. Lui non fa nei fatti. Mijailovic guarda a caso, lo dice, a parole, e poi, che cosa succede? Ma sai cosa? Dopotutto, il progettino a Bologna non è malvagio, sapete cosa c'è? Rimango. Chissà come mai, chissà come mai. Poi, quasi sicuramente, lo dico qua, adesso Mijailovic starà parlando, non so di che cosa stia favellando, ma cercherà di gettare fumo negli occhi per cercare di distrarne da questa sconfitta. bruttissima, che vuol dire un allenatore che non ha preparato niente, non ha preparato niente in settimana, perché vuol dire questo, sicuramente metterà delle nubi sul suo futuro a Bologna, dirà adesso è tempo di parlare, ci incontreremo, vedremo, valuteremo, saputo, dagli il ben servito, questa stera stesso, da Gigi, il troione, va bene? Lui e qualcun altro, saputo, fai un pochino di interventismo, saputo, fai il commisso, arrabbiati, vai davanti ai microfoni, senza essere la tua comfort zone di BFC TV, con le domande e le risposte pre-registrate, mettici il faccione, vai in sala stampa e spiega cosa stai facendo, e dici se ne sai e se sai che hai messo qui in mano il nostro Bologna, devi rendertene conto, devi prendere le redini in mano, sei tu oggi il papà di questo Bologna, non puoi aspettare che lo facciano gli altri, lo vuoi capire o non lo vuoi capire, devi metterci più presenza, più competenza, devi metterci più volatilità, o a questo punto guardati intorno, sia onesto con noi, con te stesso, e dici realmente come stanno le cose, perché siamo, ok, l'estate 2021, adesso è l'estate rivelatrice, ora ci verranno a dire e diranno dovremmo vendere, ma come fai a vendere a prezzi come volevi vendere 20-30 milioni, dei cadaveri che hanno confezionato un fine stagione come quello fatto, ma lo stesso Musa Barro, ma quanto potrebbe mai valere Musa Barro, ma pensate veramente che ci possa essere una società, a venireci a pagare Musa Barro 40 milioni di euro, ma lo pensate veramente, pensate veramente che un Tomiasu, qualcuno ce lo potrebbe venire a pagare 35-40 milioni di euro, perché? Obiettivamente perché dovrebbero? Un Bologna che ha fatto una stagione sotto tono, è finita dietro a squadre che dovevano invece stagli, dietro al Bologna, ce li sono finite davanti, una stagione di una pochezza disarmante, veramente condita da una gestione tecnica allucinante, lasciatemelo dire, adesso poi nei prossimi giorni faremo il pagellone, non risparmieremo nessuno, allenatori, dirigenza, difesa, attacco, centrocampo, andremo a scandagliare il tutto, questa sera i voti, do un 3,5, all'unisono con Mijalovic, un voto di stima, 3, ma con ambizione, tre con ambizione, siamo stati molto ambiziosi, complimenti Mijalovic, adesso chiudo questo video, vado ad ascoltare le tue parole, perché non resisto ad aspettare domani mattina, lo confesso questa sera, voglio sentire quanta ambizione, trasuderanno le tue favellate, a Dazon, a bordo campo, a fine partita, sono veramente curioso di sentire, cosa sei riuscito a dire, per saltare fuori da una serata, dove c'è solo una cosa che bisogna fare, vergognarsi e vedere gli altri, tipo il Verona di Juric, che va a Napoli, a fare la partita, a fermarli 1-1, merito a Juric, complimenti al Verona, state davanti a noi, in maniera e modo legittimo, complimenti allo Spesa, che nonostante abbia l'ultimo fatturato di Serie A, ci è venuto a un punto, a due punti, quanti sono, a due punti da noi, ok, quindi ha fatto una stagione veramente, praticamente, come la nostra, con la differenza che noi, di milioni di euro, ne spendiamo un tantinello di più, ok, chiedere alla Riccarda e alla Valtara, cari eventori, fatemi sapere che cosa ne pensate, però voglio chiudere con, grazie saputo, grazie saputo per darci, con tanta gioia e tale Bologna, che il nostro Bologna, possa essere, diventare come il tuo Monreal, o, o forse, o forse, o forse, è meglio di no, eh, andate a vedere, forse è meglio di no, cari avventori, non so cosa dire, iscrivetevi al canale, lasciatemi piccino, attivate il campanaccio pastorale, perché domani mattina, andremo, a, analizzare, a freddo, questo match, sconvolgente, che pochezza, ci sentiamo, alle prossime, chiacchiere da barra, grazie, grazie. Grazie.